Ciao a tutti, mi chiamo Jacopo, 17 anni e sono uno studente all'estero in Cina. Sono qua grazie alla borsa di studio che Intercultura mi ha permesso di vincere e devo ringraziarli molto perché l'esperienza che sto vivendo è veramente bellissima. La mia vita in Cina è composta di molte diversità, dalle 12 ore a scuola, ai tempi buddhisti al posto delle chiese, al fatto di andare in bicicletta tutto il tempo, tutte diversità che all'inizio trovo abbastanza strane ma a cui ora mi sono abituato e che mi permettono di confrontare quello che mi sta attorno con occhi diversi. Sono veramente felice di fare un anno all'estero e soprattutto in questo paese che ormai lo vedo come il mio secondo paese. dalla mia famiglia ospitante che mi tratta come un secondo figlio a tutte le piccole cose che ormai non vedo più come brutte o belle, ma soltanto come differenti. devo dire che questa esperienza serve molto ai ragazzi, soprattutto perché ci permette di capire noi chi siamo, di capire cosa ci circonda in tutti gli aspetti. Il fatto della Cina poi adesso come lo vedo io è perfetto perché è un paese con una storia lunghissima che però adesso si sta evolvendo in maniera completamente diversa. Adesso mi trovo dietro un tempio ma mi potrei trovare benissimo dietro a grattacieli altissimi e quindi suggerisco a tutti di fare un'esperienza simile. Un saluto, Jacopo. Grazie a tutti.